Non è passato l'ordine del giorno presentato all'Assemblea regionale siciliana che bocce Lombardo Quater. Presenti 69 deputati, votanti 68, 26 deputati hanno votato a favore dell'ordine del giorno, 42 hanno votato contro. Raffaele Lombardo a Sala d'Ercole può contare ancora su una maggioranza. Nel documento venivano espresse ampie critiche al governo, visto che Lombardo Quater è formato esclusivamente da uomini e donne esterni al contesto parlamentare e tecnici, si legge nel documento che non è stato approvato, visto che questa scelta è stata esercitata in un momento storico di gravissima crisi occupazionale ed economica per la Sicilia, che una situazione di tale drammaticità avrebbe imposto scelte diverse, attribuendo alla classe politica di governo onori ed oneri, diritto, dovere e di scelte decisive per il futuro della Sicilia, che la scelta di un'aggiunta di soli tecnici non deputati comporterà gravi dubbi di legittimità, dove in caso di impedimento del presidente della regione, eletto dal popolo, sia sostituito da un vicepresidente non eletto dal popolo, che questa giunta di tecnici consente, senza tanti sotterfugi, di portare al governo della regione il Partito Democratico, sconfitto alle elezioni dai siciliani. Per queste ragioni esprimiamo un forte giudizio negativo nei confronti di questo quarto governo Lombardo, ma questo documento, come detto, non è stato approvato. Con 47 voti a favore, è stato invece approvato un ordine del giorno, presentato da PD, MPA, UDC e PDL Sicilia, che sostiene il nuovo governo. Non hanno partecipato al voto i tre dissidenti del PD, Mattarella, Barbagallo e Donegani, e il Finiano in Cardona. Si sono astenuti anche i tre deputati vicini a Dore e Misuraca, Marinese, Catalano e Nicotra. Grazie a tutti.